Per me il tuo weekend è stato molto interessante perché ho capito delle cose che non avevo proprio idea di che esistessero. Sì, è giusto, esistessero, certo. E poi è stato molto bello anche perché ho sperimentato anche nuove cose, ho conosciuto nuove persone come Alexander, poi ho conosciuto voi che mi avete molto aiutato e a me è piaciuto. Quando vuoi torna, a settembre ti aspettiamo, va bene? Grazie.